Il risultato del negozio, più o meno due anni fa, era di entrare in nuovi mercati energetici. Quindi abbiamo fatto, abbiamo costruito con Pi AF un modello di nostra planta che può calcolare il costo marginale per la nostra planta per ogni unità di tempo e scegliere il aspetto più profittabile. È molto importante minimizzare le penalti economiche a causa della differenza tra la planta e la produzione reale. Quindi tutti da diversi departamenti deve dire il stesso rapporto al stesso tempo e l'allarme deve arrivare dalla sala di controllo e arrivare gli altri departamenti in diversi locali al stesso tempo, a causa di diversi dispositivi. Questo è il nostro portale web. La prima parte è la parte del portale web. Qui abbiamo le tendenze tra la produzione reale e la produzione reale. Le tendenze sono disponibili per la sala di controllo e per altri departamenti. Questo è un sistema allarme che potremo vedere. Il terzo processo è il settimane che si concentrano principalmente sul misuramento della performance. E qui il clave per noi è di usare il stesso modello centralizzato AF che abbiamo costruito per la construzione. Il ruolo del progetto è stato riuscito in meno di un anno. E poi abbiamo summarizzato i risultati verticali per i processi. Per la vendita abbiamo la strategia di prezzi e la strategia di ottimizzazione. Per l'operazione del processo di operazione nel 2011 abbiamo avuto il rapporto di reale e la produzione reale. La produzione reale era di 99,2%. Non sono grandi penalti. Per il processo di ottimizzazione reale abbiamo avuto la migliore avvaluazione della performance e dell'economia.